Re Carlo più ricco di Elisabetta, Elton John Beckham, ecco a quanto ammonta il suo patrimonio. L'incoronazione di Re Carlo Yi è sempre più vicina. Il 6 maggio, l'Eterno Erede è al trono della regina Elisabetta. Finalmente, indosserà la corona e tabloid inglesi sono sempre più a caccia di nuove curiosità e notizie sul futuro King. L'ultima in ordine di tempo è quella di un futuro re che sarà molto più ricco della sua madre defunta. Re Carlo, infatti, ha quasi raddoppiato la ricchezza di Elisabetta Yi, raggiungendo una fortuna di 600 milioni di sterline. La bellezza di queasi 700 milioni di euro. A riferire la notizia è il Sunday Times. L'anno scorso la regina scomparsa lo scorso settembre era stato attribuito un patrimonio da 370 milioni di sterline. Carlo, da principe di Galles, ha accuratamente risparmiato denaro dai profitti delle sue attività nel Ducato di Cornovaglia. E si dice che abbia deciso di essere ancora più frugale dopo il divorzio con Diana. Che gli era costato 17 milioni di sterline. Il sovrano britannico, in base alle nuove stime, sarebbe più ricco anche di Sir Elton congione dei coniugi Beckham. L'analisi delle finanze del re è stata effettuata per la Sunday Times Richlist, che uscirà Il mezzo prossimo. Nici un curcubeu, da c'è che toate astea-s doar in capul meu. E dice du te, nu mai sta, tu chiar nu vezi c'è t'ai intârziat deja. Arunca spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, s'poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Pot să sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu susa. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot.